Luigi Tupini, Presidente dell'Accademia Filarmonica di Verona, premio per la cultura della Camera di Commercio. Sì, rinnovo il ringraziamento alla Camera di Commercio per l'attenzione che credo annualmente rivolge alla cultura e quest'anno alla musica, all'Accademia Filarmonica e anche a me personalmente e sono quindi doppiamente grato. Una cosa da dire è che la cultura musicale a Verona è un elemento come dappertutto spirituale e artistico ma ha anche un forte aggancio economico, è una delle poche realtà, mi riferisco soprattutto all'Arena di Verona che ha un indotto come tutti sappiamo importantissimo e quindi proprio il fatto musicale deve, va ed è sostenuto anche dalla Camera di Commercio e questo credo dovremmo essere tutti grati proprio perché ha un forte aggancio con l'economia della città. Detto questo, non è solo l'Arena di Verona, appunto c'è l'Accademia, ci sono altre realtà come il Conservatorio, orchestre. A Verona c'è una grande attività musicale e i cittadini veronesi lo sanno. Credo che questo sia un elemento che oggi anche all'attenzione del mondo economico che è rappresentato e raccolto nella Camera di Commercio non può che fare un grande piacere.